Un gioco di cattivo gusto, e sì perché questa struttura è stata allestita al parco di Centinarola per un evento dedicato alla solidarietà. Nonostante questo, probabilmente un gruppo di ragazzi ha pensato di rovinare la festa squarciando tre teloni e uno striscione pubblicitario per passatempo. Una bravata giovanile che oltre ad essere un atto di inciviltà è una mancanza di rispetto verso chi lavora in modo volontario e gratuito per organizzare una manifestazione a favore della comunità che si svolgerà solo fra pochi giorni, da venerdì 24 a domenica 26 giugno. L'hanno fatto stanotte, questa mattina siamo arrivati e tutto questo guaio. Chi pensate possa essere stato? Io penso che sono questi di qui, il motivo non si sa, ma io sempre per gioco perché l'interesse non c'è, che interesse c'è a fare ragazzacci di una quincincina d'anni perché non è che li hanno tagliati in balzo magari, poi quei ragazzini non... Un attimo di vandalismo, un po' per divertirsi a loro modo. Penso di sì, ci hanno tagliato anche quello, adesso ho cercato di ripararlo e questo ci costerà caro perché ci sono le scritte, solo che ormai qui non ci fidiamo più, bisogna che restiamo la notte qui. Certo. Ricordiamo che la vostra opera è assolutamente di volontariato. Già, questa è la paga nostra. Ormai è 15 anni che facciamo il lavoro, questa è così. Era mai capitato prima? No. Gli anni passati no. Noi non ci saliamo più, io sto là davanti al bar, lì, sopra la macelleria, lì c'è il lavatoio, lì, fino a mezzanotte la gente con il pallone, buttano il pallone di là, di qua, poi c'è qualcuno che prendono... sono ragazzini. Ci mostri anche da questa parte, quello è lo stesso, è stato rovinato la notte scorsa? Sì, sì, lì e lì, quelli là erano attaccati da questo. A quanto pare però questo è solo l'ultimo episodio di vandalismo nell'area, infatti, sono stati diversi i dispetti e i danni arrecati. Com'è la situazione qui nel parco? La situazione qui nel parco, questi giorni, è messa un po' male perché si stanno facendo dei danni di vandalismo, tutte le bottiglie rotte, si hanno tirato giù dei fari sul tendone. In più, io ieri l'altro tagliando l'erba, con i mezzi per tagliare l'erba, ho trovato anche delle siringhe in giro. Per cui non è messo tanto bene, qui abbiamo un sacco di ragazzini che durante il giorno ci giocano, tutte queste bottiglie rotte, noi stiamo sempre qui a raccogliere questi vetrini, però è una cosa che secondo me non va bene. Ci vorrebbero magari dei controlli in più? Sì, dei controlli in più, anche specialmente durante la notte, noi l'abbiamo richiesto anche ieri l'altro quando abbiamo visto che ci hanno tirato giù questi lampioni da sto tendone, abbiamo chiamato i carabinieri, ci avevano assicurato che facevano questi giri alla notte a vedere, poi se sono passati non lo sappiamo perché noi alla sera andiamo a dormire, dopo aver montato tutta questa cosa che siamo stanchi. Ancora non sono stati quantificati i danni, ma la cosa certa è che la bravata della notte scorsa andrà a pesare sulle casse dell'associazione Viviamo Centinarola. Questa mattina abbiamo subito esporto denuncia, i carabinieri con l'aiuto di Carabinieri verranno a controllare, comunque noi metteremo vigilanza alla struttura. È un dispiacere perché c'è tanto lavoro su tutto, da quattro mesi a sta parte e vedere questa mattina i danni che hanno fatto è un dispiacere enorme, soprattutto vedere i volontari che lavorano qui è dispiace. Però noi non ci fermiamo, andiamo avanti e non ci fermiamo per queste cose qua.